Carissime, carissimi, benvenuti con Simonetta di nuovo nel mio spazio, nel mio canale, per una seduta di cartomanzia interattiva. Quindi andiamo a leggere i tarocchi, andiamo a leggere le carte per ciò che ovviamente a voi interessa. La domanda che poniamo è questa. Mi sta pensare sta pensando a me questa persona. Quindi se voi siete nei suoi pensieri, uomo, donna, non ha importanza. L'importante è che voi stiate ovviamente in concentrazione sulla persona che amate oppure che vi piace. Noi andremo a vedere se questa persona ha un pensiero verso di voi, se vi sta pensando. Benissimo, abbiamo tre opzioni, tre scelte, simboleggiate da tre mazzi di carte e da tre pietre. La pietra bianca, la pietra verde e la pietra arancione. Perciò adesso vi chiedo di mentalizzare le pietre bianca, verde, arancione e di scegliere subito la pietra che vi attira di più. Uno, due, tre. Avete scelto? Credo di sì. Benissimo, partiamo dalla pietra arancione per le persone che hanno chiesto, che hanno mentalizzato, che hanno voluto scegliere questa pietra. Quindi andiamo a vedere se la persona che a voi interessa vi pensa, in che modo vi pensa e se il suo pensiero è il suo di voi. Mescoliamo chiaramente le nostre carte con grande rispetto, con grande concentrazione e andiamo a a rispondere alle persone che hanno scelto la pietra arancione, che poi è una corniola, una pietra di corniola. Facciamo la nostra smazzata e andiamo a vedere qual è il risponso per voi. Carissime o carissimi che mi state ascoltando e mi state vedendo, provo a girare un pochino per farvi vedere meglio il banco o meglio il mio tavolo. Allora, voi che avete scelto la pietra arancione, avete un'ottima risposta, veramente bella, sinceramente bella. Avete il mondo che è già una garanzia di un sì, vi sta pensando e non poco. Vi sta pensando con la voglia, con la speranza, quasi desiderando di vedervi molto, molto presto, di sentirvi molto presto. E quindi avete in mano una persona che è collegata a voi sicuramente, che ha interesse per voi, perché il pensiero è veramente molto forte ed è un pensiero di stampo positivo. La persona in particolare ambisce ad avere qualcosa di più da voi. Questo può essere sia nell'affetto, sia anche nella sessualità, o comunque a far progredire il rapporto. Però quello che posso dirvi è che la vostra stesa, carissimi e carissime, che avete scelto, la pietra arancione è un bellissimo sì. Sì, la persona vi sta pensando, vi pensa comunque con costanza e vi pensa con progetti, se possiamo metterla in questo modo. Non deludete le aspettative di questa persona. Se questa persona vi interessa molto, cercate di coltivare il rapporto perché ne vale la pena. Ne vale la pena, qualunque sia il tipo di rapporto. È una persona che potrebbe darvi molte soddisfazioni. È una persona che nel futuro, comunque, è vicino a voi. Quindi si spostano queste previsioni anche un pochettino nel futuro, in modo sostanzialmente molto positivo. Perciò complimenti e tanti auguri a chi ha scelto questa risposta dalle nostre amiche carte. Benissimo, andiamo avanti e andiamo a rispondere alle persone che hanno scelto la pietra verde, che poi è un'avventurina, se non mi sbaglio. Andiamo a mescolare il nostro mazzo. Quindi vediamo il pensiero che ha su di voi la persona che amate, la persona per la quale state progettando, la persona che avete conosciuto, la persona che vi piace. Sono sempre le stesse eterne domande del mondo. Quindi andiamo a vedere questa persona, uomo, donna che sia, come è predisposta mentalmente verso di voi, se il suo pensiero è costante, se il suo pensiero è positivo, eccetera, eccetera. E adesso andiamo a smazzare anche per voi amici e amiche che avete scelto la pietra verde. Benissimo, risponso chiaro, ve lo vado a spiegare. In questo caso stiamo usando le sibille, per giusto, ma le vedete anche da voi. Allora, a mio modestissimo avviso, vi state trovando in una situazione un pochino triste. Quindi è come se voi stesse implorando, cioè voi che state chiedendo risponso, è chiaro, implorando una risposta da questa persona. Magari siete lì a tormentarvi eccessivamente e magari non siete sicuri o sicure della sincerità di questa persona. Per quale motivo? Perché la vostra anima, il vostro spirito, la vostra parte sensitiva, che abbiamo tutti, vi sta dicendo che questa persona c'è qualcosa che non torna sinceramente, quindi non ha un pensiero in sintesi così marcato nei vostri confronti. Vi sta facendo un po' un gioco dove vi tiene sulle spine, dove non vi racconta esattamente i propri sentimenti o la propria esistenza, la propria vita. Quindi un pochino di cautela. Il pensiero non è esattamente maturo, non è al massimo e anche voi abbiate un poco di cautela. Però c'è da dire anche questo, che la persona che avete nella vostra testa è una persona che nel prossimo futuro si farà risentire a breve. Avete le buone nuove, quindi che sia WhatsApp, che sia la telefonata, che sia un incontro di persona. Avete le possibilità, la maggior parte di voi direi, che questa persona comunque vi contatti. perciò non correte, perché ancora le cose non sono troppo mature o devono molto definirsi. Però se vi piace questa persona, non vi rammaricate se il pensiero non è 24 ore su 24, perché non lo è, perciò stiamo a dire le cose come stanno, ma avrete la possibilità di vederla, sentirla, di avere comunque dei contatti, probabilmente da parte proprio della persona che avete nella testa, che avete scelto. Quindi la risposta è un ni, un ni, è un sì e un no, con delle situazioni che probabilmente avranno uno sviluppo, con un consiglio a stare un pochino ancora cauti, perché è una situazione che deve ancora definirsi. Va bene? Andiamo avanti. E andiamo a rispondere finalmente a voi che avete scelto la gata bianca, la pietra bianca, come l'ho chiamata prima. Quindi, concentrazione, fede, rispetto, andiamo a vedere per le persone che hanno scelto la gata bianca, la pietra bianca, se la persona che tanto interessa, che tanto piace, che tanto fa sospirare in qualunque ovviamente forma sia la relazione, ha un pensiero su di voi. Quindi, andiamo a mescolare, andiamo a cercare le energie e le risposte sia dal cosiddetto famoso, ripetuto cosmo, universo, ma io direi anche dall'entità, perché le entità ci rispondono, ci parlano attraverso tantissime simbologie, tantissimi modi. quindi, andiamo di nuovo sulla domanda, sul pensiero verso di voi e andiamo a vedere cosa arriva per voi. benissimo, smazziamo di nuovo con cura il nostro mazzo di tarocchi e andiamo a leggere il vostro risponso. e beh, carissimi e carissime, come dico sempre, perché so che ci sono anche molti maschietti, non solo femminucce, sul canale e questo è un ingraziamento, sinceramente. allora, qui sono usciti ben tre arcani maggiori, quindi nel mazzo classico che racchiude gli arcani minori, gli arcani maggiori, quindi le lame in tutta la loro interezza, abbiamo una stesa, ahimè, non troppo, non troppo bella, non troppo positiva. beh, vi devo dire che è un no. Cioè, il pensiero è veramente ai minimi termini. Purtroppo, mi dispiace per chi ha scelto questa opportunità, non dovete ovviamente abbattervi, però state un pochettino in campana, carissimi e carissime, perché o avete scelto una persona indifferente, un po' egoista, fredda, impegnata, o avete scelto una persona superficiale, oppure che non si vuole impegnare, ma una cosa è certa, avete la luna, il diavolo, il matto. Questa combinazione di carte è una combinazione che non è particolarmente, è ovviamente favorevole, chi conosce il tarocco lo sa, o comunque lo intuisce, perché qui le cose non sono affatto chiare, quindi pensiero ce n'è poco, semmai c'è qualcosa di natura un pochino approfittatoria, se vogliamo, per alcuni è più un'idea che vi stanno pensando a livello magari più fisico che sentimentale, perché i sentimenti sono piuttosto carenti e le prospettive sono abbastanza labili, quindi la persona in questione non è una persona che ha un grande attaccamento verso di voi e purtroppo in questo frangente, in questo momento, non posso dire assolutamente che siete il pensiero fisso o siete il pensiero semifisso, al momento è come se voi valiate abbastanza poco, quindi non vi disperate per carità di Dio, però se abbiamo fatto queste domande, abbiamo ricevuto delle risposte, questa risposta vi dice in pratica praticamente no, non è non è una persona che si sta struggendo per voi, che si sta lambiccando la testa per voi e che magari probabilmente non ha intenzione di un grande impegno con voi. Benissimo, carissimi e carissime, con questa seduta di cartomanzia interattiva sul pensiero, sulla mente, su ciò che è il pensiero della persona che vi interessa, per il momento vi saluto, vi ringrazio per avermi seguita in questa sessione, ne faremo se volete ditelo se vi piacciono, ne faremo anche delle altre, oltre agli amatissimi insegnamenti di magia afro-brasiliana. Per da Simonetta un bacione forte, 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 un grande asce, che è sempre l'energia, la benedizione, la fortuna, asce è una parola ovviamente afro-brasiliana che vuol dire tutte queste cose. Per il momento appunto vi saluto, vi aspetto nel prossimo video. a